Si dice che Milan di Crotone, vincitore nella lotta per cinque edizioni consecutive dei giochi olimpici dal 532 al 516 a.C., essendo perfettamente sicuro di come sarebbero andate a finire le gare, partisse per Olimpia dalla sua Crotone portandosi la propria statua. Michael Jordan è l'unico atleta, forse uno dei pochi atleti di cui abbia conoscenza, che davanti alla sua statua ci passava ogni giorno per andarsi ad allenare e deve fare certamente un effetto strano. Air Jordan è stato uno dei più straordinari giocatori di basket di tutti i tempi, lui si diceva non solo giocasse a basket, ma che fosse il gioco. Ha talmente identificato il basket con se stesso che a un certo punto della sua carriera ha deciso di smettere e di dedicarsi al baseball. Poi è tornato, ha ricominciato in una squadretta con l'obiettivo di trasfigurarla, ma il suo ex coach Phil Jackson diceva che allenarlo fosse difficile, perché i suoi compagni si fermavano a guardarlo come se fosse Michelangelo. Michael raggiunse la sua massima qualità di giocatore quando Jackson gli impose un sistema di gioco dove lui, paradossalmente, era meno protagonista, dove lui, diverso anni luce dai suoi compagni di squadra, diventava identico e importante come tutti gli altri. Era il famoso triangolo, peraltro inventato da un assistente di Phil Jackson che si chiamava Tex Winter. Fu così, in quel modo che Michael Jordan diventò il numero uno. Quando si diventa consapevoli che tutto quello che serve è mettersi a disposizione della squadra e che la squadra è la cosa più importante, si riesce a esprimere il massimo delle proprie potenzialità e si diventa comunque migliori. Talvolta il migliore. A me piace chiamarlo egoismo di gruppo. E tra l'altro, nel 512 avanti Cristo, toccò a Timasiteos, anche lui di Crotone, il compito di rimandare a casa Milon e la sua statua.